Siamo nello speciale 60 iscritti Già non siamo su 60 aspetto Ma siamo su un ragazzo Proprio 80 Un attimo raga taglio Vediamo se vi è risolto Ovviamente giocheremo con dell'inglese Perché ultimamente Un attimo che Eccoci Quindi ragazzi Io volevo dirvi che Se mi chiederete Vorrei fare una live o domani o a Natale Chiedetemi cosa ne pensate Allora credo la vigilia Perché credo che a Natale farà uno speciale Come alla vigilia Farà un video di Suspects La vigilia di Natale Mentre credo che a Natale Odiamo un gas Oppure di Oppure di Brawl Una delle due Scrivetemi nei commenti Quella che lo chiedete Cioè E chiedetemi se volete proprio un gas Aspettate Taglio finché lo start La raga hanno startato Ti prego Impostore 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 Si si Uno sciopone Sì 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 O l'ingegner Che in pratica è una copia del detecco Allora Ducci 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 Hanno tornato un corpo Ah è morto anche il rosa Dove Slowwear Che è slowwear 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 Sapetelo che io non mi ricordo il nome in inglese di The Arch È il giallo Io non mi fido Io non mi fido E ho buttato il gregio Io non mi voglio fidare Io non mi fido raga Quindi scrivetemi che sotto se volete a un gas Nel canale che potremmo portarlo Ah Non so ancora cosa fare Per lo speciale di Suspects Domani Ovviamente comunque domani Buona vigilia a tutti Oggi due video E comunque credo di fare una live domani Cioè dopo il video di Suspects Credo di fare una live Quindi sarete tutti Spero Spero che ci sarete Ok Capito Quindi Già Sarà una live Se volete di Suspects O di Amogus O di Suspects Perché non credo di voler fare una live di Brawl Spero che non credo di voler fare una live di Brawl Spero che non credo di voler fare una live di Brawl Ah, hanno trovato il verde Dove? Votate Dream Dream, chi dovrebbe essere Dream? Il giallo Ma perché ce l'hanno con lui? No, secondo me non è il giallo Io ho votato Randor Ah, sì, comunque mi sto guardando il tutorial Comunque ringrazio tutti i miei amici Tutti i nuovi iscritti Ottimo che sto facendo un video E' mio padre, chi lo sa più Io ho votato il grigio Ah, ah, Dream Dream era alla fine Mentre i ragazzi si potevano i tempi di un totale L'altro porto della SS Super Russo Le ragazze deponevano il nattro territoriale Costringendo la nuova arrivata Bridget a scegliere da che parte stare Ora che Eder ha tirato la linea Le sciagla la attraverserà? Riuscirà Bridget a correttere la linea Prima che Gwen faccia a pezzi la linea? E lì sì, riconoscerà che non tutte le linee sono segni della prostatura? Per avere risposta a questi interrogettivi di pieni di suspense Non perdetevi una puntata e emozionatevi A tutto E senti io sta tasca non la faccio, ti rinuncio Non c'è, si si aprono Non mi rifacciamo prima così Chiedetemi domani di che cosa fare la live, capito? Cioè consigliatemi Woman Gus o Suspect Se volete entrare ovviamente Non so Ho trovato un corpo Ho lasciato rapida perché mi sono messo Degli anni Tipo nel 1901 Engie Engie No, secondo me è sempre lui Io ho chiesto chi è italiano Ah è morto Allora io ho già un'idea Sei un'idea No, altro Su Da 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 S Ho vinto e noi ragazzi ci vediamo nel prossimo episodio e ciao a tutti